Subito una piccola correzione, sono il tenente di Vascello Infermiere e indignamente sostituisco l'ammiraglio Simonetti che oggi per inderogabili motivi di istituto, come ricordava il professor Cremonesi, presente alla cerimonia solenne di giuramento degli allievi dell'Accademia Navale ed è rammaricato per non essere qui. Ricordavo poco fa che la mia storia più o meno comincia nel 91 quando da allievo nautico appena diplomato cercavo proprio qui a Genova di poter imbarcare in quanto allievo di plancia. Poi le cose sono andate un po' in maniera diversa rispetto a quelli che erano i sogni di un giovane 19enne. Ovviamente il mare è rimasto la parte fondamentale che si lega alla mia professione e ovviamente è quella parte, quell'elemento che lega un po' tutti noi che siamo qui presenti, sia la Marina Militare che è orgogliosa e onorata di essere stata chiamata a poter portare una piccola esperienza della propria realtà con voi medici di bordo che ogni giorno fate lo stesso lavoro che fanno i nostri uomini a bordo delle navi. Fondamentalmente ci occupiamo tutti quanti di tutela della salute, non sono solo i codici deontologici a ricordarcelo, per noi è il codice dell'ordenamento militare, vorrei ricordare che per noi militari abbiamo una condizione in più. Il Castellani che è un grande uomo di medicina diceva Salus Militum Pignus Victori che significa che la condizione, la salute del militare è il primo pegno di salute. Un piccolo scenno su che cosa è la sanità militare in questo momento, lì vedete indicate le principali basi e servizi sanitari della Marina Militare che ovviamente è in, sono io probabilmente, che sta come un po' tutta la Forza Armata, l'amministrazione difesa è in un processo di cambiamento, cambiamento che non sarà soltanto nelle strutture, ma soprattutto in un diverso approccio metodologico a quella che è la tutela della salute dei suoi uomini. Quindi noi passeremo da un concetto di medicina legale a un'applicazione della medicina del lavoro a bordo delle unità navali, quindi potremo passare dall'applicazione di i cosiddetti check up, cioè del fare screening a tutti in maniera generalizzata a fare un risk assessment e un risk management individuale. Quindi riusciremo e cercheremo di arrivare ad una tutela della salute mirata che vede l'informazione, l'educazione sanitaria importante in maniera altrettanta, lasciatemi passare il concetto, importante tanto quanto la gestione delle emergenze e delle urgenze. Chi fa queste cose sono i nostri uomini, abbiamo un'integrazione, non più la centralità del medico come unica figura sanitaria responsabile di tutto, non se lo potrebbe permettere perché le risorse sono poche, quindi dobbiamo cercare le giuste sinergie fra le diverse professioni sanitarie presenti nel nostro comparto, ovviamente nel rispetto dei profili professionali, dei codici deontologici e quindi un'integrazione di professione volta a dare un servizio di qualità al personale che sta navigando. Chi sono questi uomini? Sono circa 160 ufficiali medici a cui si vanno ad affiancare biologi, veterinari, infermieri, farmacisti fino ad un organico di circa 850 uomini, uomini che lavorano soprattutto nell'ambito del supporto alle forze operative che per noi non significano soltanto le navi, quelle grigie, ma significano anche i reparti elicotteri, sommergibili e quant'altro. Il cambiamento che cennavo prima l'abbiamo portato soprattutto a bordo, dove ci siamo accorti nel recente passato che le nostre risorse, quelle mediche, erano insufficienti per poter coprire tutte le unità al medesimo momento, quindi sono state fatte delle divisioni a secondo del tipo, della grandezza, della struttura, della complessità anche dell'unità dal punto di vista operativo e sono state divise in tre fasce. Le navi in fascia 1 sono quelle che hanno necessità di un medico a bordo sempre, a prescindere da quello che fanno. Quelle in fascia 2 che per minor dimensioni o per attività operativa leggermente minore hanno solo un infermiere che gestisce la routine e che fa riferimento a un servizio sanitario complesso. Ovviamente il servizio sanitario complesso ha un pool di medici che imbarcheranno quando la situazione operativa o il caso lo renderà opportuno. Addirittura abbiamo delle unità minori che abbiamo collocato in fascia 3 che non hanno nessun tipo di personale sanitario a bordo, rutinariamente, ma che vedono il loro riferimento nel servizio sanitario complesso e che vedono l'imbarco o solo dell'infermiere o di un servizio sanitario più articolato nel momento in cui la missione lo richieda. Ovviamente tutto questo cambiamento e soprattutto questo nuovo approccio alle attività, l'abbiamo visto nelle risorse umane, dobbiamo immaginare anche supportato da quelle che sono le risorse tecnologiche. Leggevamo, leggiamo tutti sulle riviste specializzate che la borsa del medico è cambiata, è stata quasi rivoluzionata la borsa del medico negli ultimi anni. I relatori precedentemente hanno citato che sui tablet, sui cellulari possiamo installare dei software che ci consentono di fare lo score di determinati rischi. Abbiamo apparecchiature, devices che sono poco più grandi di un cellulare e che ci consentono di fare diversi tipi di indagini come l'elettrocardiografia, l'ecografia e quant'altro. Ovviamente la telemedicina per noi diventa un supporto fondamentale perché rompe l'isolamento del sanitario che opera in remoto, che quindi non si sente più solo, non deve poter più prendere la decisione. Abbiamo sentito, io per primo ringrazio i relatori che mi hanno preceduto perché ho potuto insomma rivedere tante delle situazioni che a bordo si vivono e vederle anche con un occhio diverso. La second opinion, la possibilità di avere una telefertazione cardiologica, la possibilità di avere un consulto specialistico in diversi settori, anche non solo nei casi di emergenza e di urgenza, diventa fondamentale non solo per il medico operatore ma anche per la qualità di vita dell'utente, del paziente che approccia al servizio sanitario anche con un determinato atteggiamento psicologico di ansia e di richiesta di salute. Per noi questo è molto importante. Come lo stiamo mettendo in atto? Ovviamente abbiamo una rete di telemedicina che si avvale della connettività satellitare su satelliti militari dedicati che però per poter ampliare il loro raggio di azione possiamo utilizzare anche sistemi satellitari. Fondamentalmente una stazione remota sia a terra che a bordo si collega attraverso il sistema satellitare e riceve il supporto specialistico sia di telerefertazione nelle diverse branche specialistiche ma anche di teleconsulto. Oggi dal policlinico militare del Ceglio e domani anche dal centro ospedaliero militare e marina militare di Taranto. Abbiamo soprattutto nel campo della telecardiologia e della telerefertazione cardiologica approcciato a piccole sperimentazioni settoriali, una qui in Genova con Telecom per fare telerefertazione a distanza con i nostri cardiologi. Noi facciamo tutela della salute anche attraverso verifiche dell'idoneità periodica del nostro personale quindi la parte cardiologica era una parte importante e poi in altre zone del territorio nazionale con una società di telerefertazione con sede a Bari. L'impianto, noi abbiamo due tipi di impianti di telemedicina che possono essere stazioni di telemedicina fisse quindi in dotazione standard all'unità navale soprattutto alle grandi unità navali o stazioni mobili che possono essere installate, sono scelterizzate e possono essere installate facilmente. A che cosa possono portare come supporto tecnologico? Ovviamente possiamo arrivare alla teleradiologia, telecardiologia, alla dermatologia e quant'altro. Vado molto veloce in modo da non rubare tempo agli altri. Adesso arrivo alle due esperienze fondamentali che abbiamo portato qui. La prima è quella che abbiamo vissuto a bordo di nave Gavur quando la nave è stata impegnata nell'operazione White Crane. Questo è un caso particolare in quanto a bordo dell'unità ho sentito più volte citare i termini infermeria e ospedale. A bordo di nave Gavur c'è un ospedale vero con 12 posti di terapia intensiva, 4 posti di rianimazione, 20 posti ancorché colletti a castello. Avevamo una struttura di personale con equipi chirurgiche e anestesiologiche, avevamo specialisti a bordo. Quindi qui la telemedicina è stata sì un supporto importante, però per noi oggi la telemedicina sta cambiando un po' quello che era l'idea del passato. Diventa tanto più importante quanto è minore il numero di operatori sanitari che sono a bordo perché, ritornando al concetto iniziale, rompe questo tipo di isolamento che probabilmente a bordo del Gavur non c'era. Solo per citare qualche dato di nave Gavur abbiamo fatto più di 412 ore di collegamento satellitare con circa 130 ore di discussione di casi clinici nel periodo di impiego dell'unità navale che è stato comunque relativamente breve. Passerei al secondo caso che è quello che invece abbiamo portato qui, che è quello di nave Vespucci e che secondo noi è molto più aderente e poi soprattutto richiama un po' uno dei nostri motti che ci identificano e cioè quello di cercare di coniugare sempre tradizione e innovazione e che cosa meglio di uno dei nostri simboli della marineria italiana, cioè della nave a vela Vespucci. Con questo esempio di telemedicina proietterò un breve filmato che spero di far partire quanto prima. Abbiamo nel caso, purtroppo non c'è l'audio, cercherò di commentare, abbiamo simulato due casi. Un caso di un soggetto che si è presentato in infermeria, l'infermeria di nave Vespucci è un'infermeria di tipo 2, della fascia numero 2, quindi solitamente è gestita soltanto da un infermiere. Durante la crociera estiva imbarca anche il medico e a secondo del tailoring della missione, quindi a secondo della specifica della missione, possono imbarcare anche altri operatori sanitari come l'odontoiatra e il personale tecnico di laboratorio e di radiologia. In questo caso c'era il supporto delle medicina, il medico è andato dopo la parte, io ho sentito quanta importanza è stata data alla parte di raccolta anamnestica dei dati, insomma alla semiotica. Dopo questa fase il medico è andato a eseguire un ECG con un apparecchio in telefonia che poi gli ha concesso di poter inviare all'ospedale, al Policlinico Militare del Ceglio, l'elettrocardiogramma. Era un caso di ipertensione e anche qui insomma il relatore stamattina ci ha spiegato molto bene, almeno per me è stato importante ricordare quanto nella corretta esecuzione anche di un procedimento banale, anche per me che sono infermiere della misurazione della pressione poi sia fondamentale fare la ripetizione, farlo in tutte e due le braccia e qui lo specialista cardiologo dopo aver visionato l'elettrocardiogramma era in collegamento ha completato la raccolta anamnestica facendo quesiti particolari e quello che ne è tornato, oltre a una soddisfazione per il paziente perché era la nostra volontà, cioè il nostro impegno è quello di tutelare e dare un servizio di qualità al personale imbarcato, era quella di aiutare il medico che in quel momento si trovava con un caso, ancorché non gravissimo, però dargli quel supporto specialistico necessario per poter gestire la cosa. Il caso ovviamente si chiude con il consiglio da parte dello specialista della terapia e del successivo monitoraggio nelle successive 24-48 ore per poi ritornare a monitorare in maniera specialistica attraverso un teleconsulto il caso. Vado ancora più avanti, il secondo caso è un caso dermatologico, così non vi rubo troppo tempo. In questo caso la simulazione era un po' richiesta in quanto il dermatologo del CELI ha detto simuliamo qualche cosa che c'è, quindi è stata trattata attraverso il teleconsulto una verruca e anche qui è stato molto importante, ancorché potesse essere un problema sanitario banale, lasciatemi passare il termine, è stato molto importante nell'attività rutinaria dell'unità navale poter arrivare a una corretta diagnosi, alla corretta terapia per il soggetto, anche per capire che cosa il soggetto potesse fare una volta tornato a terra e quindi chi potesse contattare e che cosa, quale dovesse essere il suo percorso. Per noi la telemedicina sta diventando sempre più importante, proprio per questo motivo. Questi sono solo due piccoli spaccati di una realtà che però cerchiamo di utilizzare sempre di più. Siamo passati da una solo stazione mobile a bordo di una unità navale, abbiamo quattro stazioni fisse sulle principali unità e tre stazioni mobili in consegna per poter consentire alle unità in missione di avere questo tipo di supporto. Io ritengo di aver finito con la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione.